Allora, lei è sposato, e cosa dice sua moglie di questa città? E non vuole che venga la corrida, che le piace molto la corrida, Cina città, Canelo 5, Roma centrale, le piace molto di venire a Roma, la Cina città, Canelo 5, Cina città, dica lei. Dunque, allora, lei adesso canterà una canzone che si intitola proprio lo spazzacamino, che ha, devo dire, qualche piccolo doppio senso, ma in questa epoca si può soprassedere a certe cose, no? Sì, sì. Sì, allora, dunque... Dicane! No, no, io... Corrado, corrado. Dottore Corrado, dottore Corrado, senta, 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 senta lei, dico io, dico lei, lo dico io, dico lei, lo dico io, che la luna si è andata al mese, che io mi anche tutto sento, ogni tanto faccio qualche bicchiere di miei, la verità, dire la verità, per bacco, esatta la domanda. Allora, se è pronto per cantare... La canzone del spazzacamino. La canzone dello spazzacamino, con questo microfono, però. Senta, dottore Corrado, questo che per favore lo posso lasciare, un... 20, 21, 2, 3 minuti... Certo, certo. La ringrazia lei, la ringrazia. Prego, prego, si immagino, si immagini. Di qua, di là, si senta, una voce allegra menta, una voce allegra menta, dello spazio cammina. S'affaccio alla finestra, una bella signorina, se è bello e sei carino, che mo' lo spazio cammini. Primo lo fai entrare, dopo lo fai sedere, da mangiare a bella, allo spazio cammina. E doveva mangiare, mangiare ben vivute, mi fai vedere il buco, il buco del cammino. Povero giovane, come fa la salire, che il mio cammino è stretto, come fa la salire. Con dubbio da signora, so' vecchio del mistero, so' fare il mio dovera, per giù per il cammino. E dopo i quattro mesi, la luna va crescendo, Cuvati c'è la genna, bello spazio cammini. Aiii, spazio cammini. Aiii, ciumi nervi. Grazie. È stato un personaggio simpaticissimo, guarda, le devo dire sinceramente. Ma lo hanno riconosciuto, perché lei, truccato così, magari per strada non l'hanno riconosciuto. Sì, sì, per spazio cammini sembra tutto nero, se no, con il dottore Corrado, come faccio, con così. Dottore Corrado, sentisi, un saluto per favore. Se vuole baciare Miriana, baci pure. Saluto a tutta la nizia, c'è il messaggio della provincia, che prendi, si saluti, ragionieri per la nuova. Ah, sì, prego. Un baciato qua, 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 dai, vai, Miriana, Miriana, dai, venne il caffè, dai, sì che per favore, dai, l'ulto, 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 l'ulto. Grazie a tutti.